Buon sabato, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. C'è un incidente sulla A11, il tratto interessato Montecatini-Terme-Pistoia, la direzione Firenze, al momento un chilometro di code. Lavori, personale su strada, siamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, a Ginestra-Fiorentina, direzione Firenze. Ancora in Fipi lì c'è una coda, all'Astra segna in uscita da Firenze. Per quanto riguarda la A1, segnalati pedoni tra Incisa-Reggello e Valdarno in direzione Roma. Veniamo a Firenze, lavori sui marciapiedi in via Cavour. Dal lunedì, previsti restringimenti all'incrocio con via Guelfa, con obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Guelfa e all'incrocio con piazza San Marco, con senso unico, da via Guelfa verso la piazza. È tutto per il momento, muoversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Grazie a tutti.